Ed eccoci qua in compagnia di Taglierino, buonasera! Buonasera Alessia! Allora, cosa ne pensi della serata? Che fuori per il cash propone sempre degli MC stilosi di Torino, grandi rime e siamo la capitale dei freestyler posso dire. Da Mauri B che è il nostro grande ispiratore, fino ad arrivare i giovani, Fred De Palma, Shade, Tais Moka, tutti! Non ne posso fare tutti i nomi, poi me li perdo, sono anche l'una, è tardi e le birre si sentono. E poi di là c'è gente che aspetta di far casino, quindi direi... Don Corrise, vedremo del gran beatbox, l'italiano che è appena uscito col disco, l'ultimo dei sensi, siamo di là con gli amici, con Rage con cui sono in tour anche se l'abbiamo chiuso. E poi chi c'è? C'è anche Raiden, ci sono un po' di amici stasera, Massa 5 ha i controlli, io stasera non lavoro per fortuna. Un saluto a tutti gli amici di 4MusicTV, questo è BJ Taglierino, Fransol23 Studio. Peace, yo!